Sono stati licenziati due medici dell'ospedale San Carlo di Potenza, protagonisti della telefonata scandalo pubblicata sul web che ha travolto il reparto di cardiochirurgia in cui un anno e mezzo fa ha perso la vita una donna calabrese di 71 anni. Si tratta di Michele Cavone e Fausto Saponara, puniti dal Consiglio di Disciplina dell'ospedale. I due sono accusati di aver minato l'immagine del San Carlo, sospeso invece il giudizio per gli altri due chirurghi coinvolti. Nella vicenda il primario Nicola Maraudino e Matteo Galatti, accusati anche loro di omicidio colposo dalla Procura di Potenza. Cavone nella telefonata sciocca ammetteva di aver ammazzato la 71enne Elisa Presta e di essere tormentato da quell'errore in sala operatoria, ma di aver proseguito comunque per ore l'intervento per sfuggire alle responsabilità sue e dell'equip medica. Grazie a tutti.